Al comando si porta Special Rush nei confronti di Docker in terza posizione Wiz Replay a precedere Fantastic Horse con in coda Return the Chat Dopo i primi 400 metri di corsa non avvengono cambiamenti Ed è sempre Special Rush che prosegue in vantaggio tallonato da Docker Quindi in terza posizione Wiz Replay che precede Fantastic Horse con in coda Return the Chat Non avvengono cambiamenti neanche all'imbocco della curva di fondo Con Special Rush e Docker in prima e seconda posizione a qualche lunghezza segue Wiz Replay Ora avvicinato all'esterno da Fantastic Horse che lascia in coda Return the Chat Cavalli ora gradatamente si portano all'imbocco della retta di arrivo Dove Special Rush si mantiene in vantaggio allo steccato Docker si propone al suo esterno trascinandosi più a centro pista Fantastic Horse quindi Return the Chat e Wiz Replay Special Rush subisce ora l'attacco di Docker Mentre più all'esterno si propone ancora Fantastic Horse in anticipo su Return the Chat Siamo a 300 dal palo con Special Rush attaccato da Docker Ma è molto più incisivo al centro pista Fantastic Horse che ora sembra passare Ed è proprio Fantastic Horse che sta passando nei confronti di Special Rush Nel finale Fantastic Horse passa su Special Rush al terzo posto Docker davanti a Return the Chat Rivediamo le immagini con anche Gabriele Di Gennaro a bersaglio Con il numero due dello schieramento Fantastic Horse Che nel finale ha piegato il leader Special Rush numero 5 al terzo posto l'uno di Docker Quindi 2-5-1 il probabile e ufficioso arrivo della quarta corsa di Napoli